Smentisco nella maniera più forte possibile che ci sia alcun tipo di disegno che possa portare non solo alla chiusura assurda, ma addirittura allo smantellamento dell'ospedale di Sondalo. Regione Lombardia vuole sostenere e potenziare l'ospedale di Sondalo, così l'assessore regionale al welfare Giulio Gallera, che proprio oggi annuncia dentro lo stanziamento di 259 milioni del nuovo programma straordinario di investimenti per gli ospedali e gli istituti di ricerca e cura, deciso dalla giunta regionale, l'assegnazione di quasi 3 milioni e mezzo ad ASST Valtellina e Altolario. Le risorse sono riferite all'anno 2020, spiega, di conseguenza sono immediatamente utilizzabili in base a progetti predisposti dai varienti proponenti, fondi in arrivo anche a Sondalo. Più di 2 milioni di euro proprio per rafforzare con l'incremento dei posti letto di terapia intensiva, di semi-intensiva, delle malattie infettive, della pneumologia. L'ospedale di Sondalo prima del Covid aveva 270 posti letto, nel ritorno alla normalità avrà 270 posti letto. Tutto il personale che era in forza, oltre 900 unità, tale rimarrà. Per quanto riguarda le specialità ribadisce Gallera, continueranno ad operare chirurgia generale, medicina generale, ortopedia e traumatologia. Il punto nascita è ripartito, confermato anche il pronto soccorso. Soltanto nel mese di luglio 119 sono stati i pazienti portati dalle autombulanze presso il presidio di Sondalo. Sondalo conferma la sua vocazione a polo riabilitativo. Il neurologo, l'urologo, i riabilitatori si spostano eventualmente dai presidi in cui operano per venire a operare i pazienti o a curarli all'ospedale di Sondalo. Quindi la neurochirurgia che si sposta nel presidio di Sondalo, ma continua a svolgere parte dell'attività legata alla colonna vertebrale presso il presidio di Sondalo. Confermate, dice Gallera, la chirurgia vascolare e la toracica per quanto riguarda la dei surgery. Quindi è falso che Regione Lombardia voglia dismettere, voglia depotenziare l'ospedale di Sondalo.